Siamo sempre stati attirati dal mare e la sua energia e da quando avevamo 8-9 anni ci divertivamo ad andare in mare con quello che trovavamo. Tavole da seppi non ce n'erano e quindi con materassini, tavoline di plastica. A 16 anni abbiamo realizzato la nostra prima tavola nel garage della nostra nonna perché i nostri genitori non ci sovvenzionavano in questa cosa. Poi al termine dei nostri studi universitari abbiamo deciso di fare le cose a modo e abbiamo creato la prima factory. Io sono Renato Bertini. Io sono Paolo Bertini e noi siamo i Twins Bros. Oggi le tavole che produciamo qui vengono utilizzate in tutto il mondo ed abbiamo una family, un team di professionisti che le testano regolarmente. All'inizio c'era molto scetticismo e diffidenza in quanto molti pensavano che le tavole prodotte in Italia non fossero all'altezza di quelle fatte nel mondo. Ma noi piano piano siamo stati bravi a far vedere il contrario e oggi riusciamo a realizzare tavole per ogni richiesta ed ogni esigenza. L'energia la troviamo ogni giorno guardando avanti alla strada che dobbiamo percorrere come se fosse una nuova onda da surfare. Io sono Energia.